Amici e amici di Rossini TV, benvenuti oggi in studio con noi. Noi abbiamo uno studio pieno di personaggi di altissimo livello. Oggi abbiamo tante cose importanti da raccontarvi che hanno a che fare con un'impresa, ma conosciamoli uno alla volta. Cominciamo con Alberto Alessandri, sindaco di Cagli e soprattutto qua anche come presidente dell'Unione Montana, Catria e Nerone e di Alte Marche. Poi spiegheremo perché abbiamo dato tutte queste definizioni. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. E poi abbiamo Maurizio Radi di Fisio Radi Medical Center, anche lui è qua per parlarci di questo evento, del quale è naturalmente motore e promotore, ma non anticipiamo niente, continuiamo solo questo giro di saluti. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito e poi scopriremo le carte più tardi. Alessandro Gualazzi della AG20, lui è il coordinatore generale di tutta l'iniziativa, di tutto quello di cui parleremo. Alessandro, ci siamo? Ci siamo pronti, adesso aspettiamo poi Zico e parleremo con lui, ma noi aspettiamo Zico più che io. Lo coordiniamo e lui deve fare l'impresa. Esatto, è proprio lui. E il motivo per cui siamo qua è Zico Pieri, che è tornato a proporci, a raccontarci la sua nuova impresa, la sua nuova impresa del 2022. Zico! Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Ci eravamo lasciati dicendo che avevamo tante idee da mettere in campo e quindi siamo qui con una di quelle. In pratica sarebbe una specie di promessa mantenuta. Tante aiuto ha detto tienici informati, noi di Rossini TV e tutti i nostri telespettatori su quello che succederà e insomma è ora di scoprire le carte. Siamo a un mese più o meno dall'evento, dipende poi anche molto da quando ci vedranno i nostri telespettatori. Comunque poi daremo le coordinate e le date di questo evento che si chiama Alte Marche Unlimited. Mantieni Zico questa specie di cifra, questa specie di marchio sull'Unlimited e poi capiremo anche perché. Alte Marche Unlimited do anche subito una coordinata di date dal 28 giugno al 10 luglio e entriamo, cominciamo a entrare un po' nel merito dell'iniziativa e dell'impresa perché qui più che di iniziativa si parla di una vera e propria impresa. Sì, qui diciamo questa volta torniamo all'impresa, la parola impresa è più che mai appropriata perché torno un po' nella disciplina everesting nella quale non facevo imprese da un paio di anni, forse tre, quindi sarà un tentativo ufficiale di record mondiale che effettuerò nelle mie montagne delle Alte Marche, in particolare sul Monte Petrano. L'evento, dicevi bene Paolo, il nome Alte Marche ha proprio questo duplice aspetto e questa duplice importanza, cioè Alte Marche che vuole rappresentare la voglia di comunicare la bellezza del nostro territorio non solo alla nostra regione, alla nostra nazione, ma dico più anche un po' in generale anche per gli stranieri, all'estero. E questo nome, questo nome che ormai diventa una costante, unlimited dei miei eventi, che rappresenta un po' se vogliamo la mia filosofia che è quella di un miglioramento continuo, illimitato dal punto di vista personale, fisico, sportivo, professionale, che riguarda un po' tutti gli aspetti della vita. Come sempre mi rendo conto dopo un po', quando già sono entrato un po' nel vivo, sono passati alcuni minuti, che diamo per scontato un po' di cose, diamo per scontato che chi ci sta seguendo in questo momento sappia esattamente, abbia buona memoria soprattutto, e sappia esattamente di cosa stiamo parlando sulla limite. Allora facciamo un piccolo riassunto, lo faccio io un po' al volo. Zico che avete appena visto e che avete appena ascoltato, l'anno scorso ha trascorso parecchie settimane sullo Stelvio e sullo Stelvio in bicicletta ha fatto 101 risalite, stabilendo in qualche modo un record personale sicuramente, ma anche un punto di riferimento per tutti quelli che vogliono provare imprese di questo genere, perché sicuramente è stata un'impresa eccezionale che si chiamava appunto Stelvio Unlimited. Quest'anno, come sempre, quando si porta a termine un'impresa così importante, la sfida diventa ancora maggiore, perché bisogna cambiare le coordinate, bisogna fare qualcosa di più. Non è che puoi tornare sullo Stelvio e farne 104, non è quello, bisogna reinventarsi qualcosa. E allora c'è quest'idea di Alte Marche, sindaco, c'è quest'idea di Alte Marche, in qualche modo una specie di ritorno alle origini, l'anno scorso sullo Stelvio, quest'anno dietro casa. E però è una grande idea questa, perché forte di tutta la notorietà acquisita con l'impresa dell'anno scorso e con tutto quello che c'è stato in precedenza, Zico punta dei riflettori molto forti sul nostro territorio. Certo, l'esempio, quello che vuol fare Zico, si sposa benissimo con quello che vogliamo fare noi amministratori nel nostro territorio. È un po' un'impresa che va oltre i nostri limiti, probabilmente, ma vogliamo prendere spunto da quello che Zico ci propone in questa sua disciplina, perché anche per noi la sfida di promuovere questi territori, di promuoverli a livelli, come diceva prima giustamente Zico, non solo nostri regionali, ma di proporli a livelli mondiali, di proporli a una platea molto più ampia, è una grandissima sfida, che si sposa benissimo con questa di Giacomo, di Zico, perché noi vogliamo soprattutto da lui acquisire la mentalità, al di là della prestazione, al di là di tutto, che è di grandissima importanza, è di importanza mondiale, che sicuramente sarà un evento bellissimo, ma quello che noi vogliamo così rapire, quello che vogliamo copiare da Zico è proprio la mentalità, è una mentalità che tutti gli abitanti della nostra zona dovrebbero avere, perché siamo di fronte a una sfida unica, che ci deriva sia anche da episodi brutti come può essere stato il Covid, quindi come può essere le risorse del PNRR, di tutto quello che ci arriverà, e dobbiamo essere forti, dobbiamo essere mentalmente pronti a distruggere e abbattere i nostri limiti per riuscire a portare avanti questa sfida. Ed è esattamente per questo che, insomma, dico sempre, è il personaggio ideale, al di là dell'amicizia che me lega, ma veramente è il personaggio ideale che mette sì l'impresa, la mette l'evidenza, ma mette insieme in campo tante altre caratteristiche, forse più importanti dell'impresa stessa, che vanno assolutamente fatte proprio in tutti noi. Sì, il bello infatti dell'impresa di Zico è proprio questo, che il posto dove si svolgono non è semplicemente il contorno, il teatro, diventa protagonista, diventa coprotagonista, e in particolare ricordiamo che Alte Marche raccoglie nove comuni, Aqualagna, Pecchio, Arcevia, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobico, Sassoferato e Serra, Santabondio, e rappresenta un po' una sorta di percorso ideale nel quale la natura si fonde in maniera molto forte con i residenti del territorio e diventa appunto un protagonista aggiuntivo. Maurizio, chiedo a te, in questa mia visione, ti ci ritrovi, questa logica del dire il territorio, uno come te che è così protagonista proprio del nostro territorio, con la tua attività, nella nostra città, che non hai mai lasciato e che anzi ti sei ingrandito rimanendo addirittura e tornando da dove hai ripartito. Insomma, credo che questa intensità di rapporto col territorio è una cosa nella quale ti riconosci molto. Sicuramente sì Paolo, il territorio è un qualcosa che secondo me ci ha dato tanto, ci può dare tanto e sicuramente lo dobbiamo fare scoprire molto di più. Fortunatamente questo mezzo che oggi usiamo, che è la bicicletta, in vari modi, perché c'è chi va su strada con la bici da corsa, chi in mountain bike, addirittura con l'evento oggi delle bike, hanno permesso a tante persone di raggiungere dei posti che magari non conoscevano nemmeno. Quindi ben vengono questi eventi, perché questi eventi possono portare ancora più il nostro territorio in giro per l'Italia o addirittura per l'Europa o per il mondo, perché poi con questo evento dove Zico, si può dire, ritorna, come dice lui, alle origini nell'Everesting, l'Everesting sappiamo che è un circuito a livello mondiale e quindi quando magari vedranno quello che è stato fatto su un monte nella provincia di Peso Urbino, vedranno che il nostro territorio è un qualcosa di spettacolare. Come dico sempre, abbiamo un territorio dove possiamo pedalare dal mare alla collina fino alle montagne, poi sì, abbiamo il Petrano, il Catre, il Nerone, il Carpegna, quindi come vediamo un territorio talmente ampio, talmente vasto e alla portata di oggi come oggi, di ogni tipo di ciclista, perché prima magari era impensabile per un cicloturista poter andare, non so, sul Petrano o su uno di questi monti, ma oggi anche con le bike possiamo girare dove vogliamo e quindi addirittura so che questo progetto di Alte Marche vuole portare proprio la conoscenza delle strade o dei sentieri in giro per l'Italia e per il mondo. Alessandro Gualazzi, a G20, una grande storia di ciclismo che perdura ancora oggi perché è un grande appassionato di ciclismo che ha iniziato qualche anno fa e che diventa oggi in quanto organizzatore di eventi invece qualcuno che si sta specializzando proprio in questo ambito e in questa fattispecie è il coordinatore generale di tutta la manifestazione perché un'impresa come questa ha bisogno di un'organizzazione molto precisa, puntuale per poter riuscire perché ricordiamo che è una impresa talmente grossa, ancora non l'abbiamo detto ma fra un po' vi diremo di cosa si tratta, che ovviamente l'atleta deve pensare solo a quello, al resto ci deve pensare qualcun altro. Nella fattispecie, Alessandro. Sì, grazie, è vero, questa è un'impresa, come diceva il sindaco, l'impresa anche di promuovere il nostro territorio, io anche se non sono di Cagli, dico il nostro territorio perché ormai veramente sono diventato di questo territorio che è bellissimo, che del resto, come diceva Maurizio, noi con le biciclette giornalmente, tutti i giorni andiamo a percorrere e abbiamo anche fatto, dopo qualche anno di rodaggio siamo riusciti a mettere in piedi la ciclovia, ciclo appenninico Alte Marche, che va proprio, è una ciclovia aperta al traffico, tabellata, messa in sicurezza, va a toccare tutti i nove paesi dello SNAI, quindi delle Alte Marche. Ci sono delle stazioni di ricarica, la possibilità di godere di tutte le bellezze, quindi anche questa è una promozione che poi spero Giacomo in un prossimo futuro, anche quello potrà cominciare a percorrere quando sarà finita, penso che a fine di giugno, proprio in concomitanza anche con l'impresa di Giacomo, sarà finita anche la ciclovia, quindi saremo in grado di promuovere anche questo. Per quanto riguarda la domanda, effettivamente sull'organizzazione è vero, perché Giacomo, io glielo dico sempre, mi raccomando, allenati e non pensare ad altro, perché effettivamente ci vuole tanta concentrazione, ci vuole tanto allenamento per fare queste cavalcate che sta facendo lui e ho avuto l'onore e il piacere, anche tramite, grazie al sindaco, di poter coordinare questa attività che sarà, lo vedremo poi molto ampia, abbiamo cercato di coinvolgere anche non solo il ciclismo, ma anche tutte le attività dei gruppi sportivi che sono nel nostro territorio, coinvolgere in una sorta di festa che andrà avanti almeno per 15-20 giorni, proprio avremo varie manifestazioni, soprattutto durante il fine settimana, che sono da corollario a quello che farà Giacomo. Bene, a questo punto abbiamo abbastanza disorientato i nostri telespettatori, perché un po' lo chiamiamo Zico, un po' lo chiamiamo Giacomo, per cui a questo punto spieghiamo, spieghiamo che Zico è evidentemente un soprannome però molto, molto acquisito ormai, soprattutto legato al fatto che in passato, lui che vedete in questo momento pronto a inforcare la bicicletta e fare quello che ci dirà fra un attimo, comunque era calciatore, appassionato di calcio e calciatore e con un riferimento che era appunto il calciatore Zico. Da lì è venuto fuori questo soprannome e da lì questo soprannome continua ad esserci, però lui in realtà al secolo, come si dice, e all'anagrafe è Giacomo, Giacomo Pieri. E allora Giacomo, o Zico che dir si voglia, vogliamo finalmente svelare ai nostri telespettatori in cosa consistirà questa impresa che ricordiamo, Alte Marche Unlimited, dal 28 giugno al 10 luglio, 13 giorni sul Monte Petrano. Cosa fai? Vai in campeggio? Sì, forse proverò anche a campeggiare, visto che il campo base verrà fatto dentro il campeggio in quota, quindi per qualche ora al giorno, ma pochissime probabilmente, avrò la sensazione di campeggiare. No, invece tornando alla prestazione, sarà una prestazione, dico, di altissimo livello e come sempre porterà dietro anche un po' di incertezza, perché la sperimentazione e la curiosità di esplorare i miei confini psicofisici è sempre per me un grande stimolo e una grande motivazione. Quindi per dirvi che avremo all'interno di questo progetto, come nei miei passati progetti, l'Università di Urbino, che farà una vera e propria sperimentazione sui aspetti psicologici, quindi avremo uno studio coordinato da uno psicologo che ci seguirà a distanza, con dei collaboratori sul campo che eseguiranno dei test, quindi vedremo un po' anche la curiosità di cosa verrà fuori tra i dati oggettivi che verranno dalle analisi, come per esempio l'analisi matica e i dati soggettivi che verranno un po' dalle mie risposte in condizioni di fatica o di carenza di sonno estrema. La prestazione tecnicamente si basa sulla Challenge Everesting, riassumendo un po' per i telespettatori, l'Everesting è quella disciplina che prevede di scegliersi una propria salita, percorrerla tante volte fino a raggiungere il dislivello dell'altezza della montagna più alto del mondo che è l'Everest di 8.848. Questa disciplina negli anni si è evoluta tantissimo, specie negli ultimi 3 o 4 anni. Mi piace dire che la mia indole di sperimentatore mi ha permesso, nel 2022 è stata scritta la storia di questa disciplina, mi ha permesso di essere nominato tra i pionieri di questa disciplina perché ho effettuato diverse prime mondiali. Nel 2019 sono stato il primo a realizzare il quadruple Everesting, cioè 4 Everesting consecutivi nella stessa salita, quindi parliamo di 35.000 metri di dislivello. Attualmente questo record è stato battuto da tre atleti e attualmente poche settimane fa un atleta australiano l'ha portato a 5 Everesting, quindi il mio obiettivo primario è quello di risettare un nuovo record mondiale, ma ancora più ambizioso, questa volta è veramente super ambizioso, è quello di realizzare il primo Deka Everesting al mondo, cioè realizzare 10 Everesting consecutivi. Fammelo spiegare bene a me, adesso ve lo spiego perché magari lui lo dice come se fosse una cosa, allora ve lo ridico un'altra volta io. Allora praticamente l'Everesting vuol dire salire e scendere un numero sufficiente di volte per creare il dislivello positivo di 8.848 metri che è l'altitudine dell'Everest. Questa cosa che di solito è già un'impresa di per sé, Zico l'ha fatta 4 volte di seguito oltre a tante altre situazioni strane, creando una sorta di record. Questo record, dopo spiegheremo perché è una sorta, questo record ha tenuto fino a qualche settimana fa ed è stato battuto da un australiano che l'ha portato a 5 volte. A questo punto per fare il nuovo record uno si pone l'obiettivo e dice lo faccio 6, e invece no, la famosa asticella viene posta a 10. 10 volte 10 Everesting vuol dire 88.480 metri di dislivello positivo. Ricordiamo che nel muoversi in bicicletta si sale e si scende anche, per cui è vero che la vera impresa sta nel fare il dislivello positivo e la salita, ma ogni volta che si è in cima non è che si sale in macchina e poi si torna giù, si scende di nuovo in bicicletta e questo è un altro degli aspetti rilevanti da tenere molto in considerazione, cioè ogni volta si sta sempre e comunque in bicicletta. Allora, l'ho voluto sottolineare, perdonami, perché te l'hai fatta facile, mi sembrava una cosa che quasi quasi eravamo tutti pronti a partire domani, no sindaco? Eravamo lì lì che stavamo per rinforcare la bicicletta per come l'ha detta lui, invece mi sembra che ci sia un altro discorso insomma dietro, no? Io che conosco il Monte Petrano molto bene, per noi è già faticoso farlo con lo scooter o con la macchina una volta, perché arrivi in cima che già qualcuno gira la testa, qualcuno ha altre sensazioni, quindi proporlo per il numero infinito di volte. Dicevo prima una sorta riferita al passato, perché qui adesso entriamo invece nel mondo dei record certificati, no? Ci spiegava, dico prima fuori onda, che ci sarà, io leggo ragazzi perché qui i giudici dell'Official World Record che prenderanno nota perché la novità sarà anche quella di tener conto di quanto tempo ci si mette, perché a questo punto per parlare, Maurizio io non so, mi viene da ridere solo a dirlo, visto che è così facile farla, bisogna anche cominciare a calcolare in quanto tempo ci si mette, perché se no bisogna anche farla alla svelta, voglio dire, no? Per riuscire a stabilire qualche cosa di difficile da battere, per cui ci sarà anche un discorso legato al tempo e per questo è stato realizzato un regolamento a porta che non c'era prima. Chi mi risponde? Alessandro Zico. Sì, da mesi stiamo lavorando con i giudici di Official World Record per realizzare un vero e proprio regolamento preciso perché fino ad oggi non c'era un vero e proprio regolamento, quindi loro per l'ufficializzazione del record richiedono un regolamento che possa essere replicato da altri atleti, quindi abbiamo settato un nuovo regolamento che insomma prevede delle regole abbastanza stringenti perché parliamo di ultra endurance, comunque è un modo difficile. Io adesso descrivendolo forse l'ho reso troppo semplice, dici bene Paolo, ma qui adesso io non vorrei entrare nel campo di quanto è facile o difficile un'impresa, ma questa se noi pensiamo che può essere il doppio dell'attuale record, già capiamo che il mondo nell'Everest ci ha impiegato così tanto a battere un record che poi non è altro che uno stimolo a migliorarsi e questo per me è importante, dare stimoli alle altre persone perché lo faccio anche di professione come coach, quindi la difficoltà questa volta è veramente entra in una zona di sperimentazione. La domanda importante che dobbiamo porci è perché? Perché spingersi così avanti? È lecito? È folle? Perché io mi sento un pioniere della sperimentazione delle risorse psicofisiche, lo dico un po' anche ambiziosamente, però questa volta le percentuali di riuscita sono consapevole al 100% che non abbiamo una grandissima percentuale di concludere 10 Everesti. Con questo non voglio tenere un po' così fiero in cascina, non regalando motivazione, non regalando aspettative, però è la realtà. Quindi la domanda che io mi pongo, che dovremmo porci è cosa ci fa accettare di metterci in gioco a un livello così alto? Il mio è stato un percorso, questo è il messaggio importante che deve passare quando le persone sanno che, insomma, ecco, Zico tenta un record, ma è un percorso forse ventennale o anche più, o anche più lungo, che viene forse dal passato. Quindi che mi vede già nel campo dell'endurance, dell'ultra endurance, prima come appassionato, poi anche come atleta esperto, poi come professionista, come istruttore di triathlon, come coach, quindi questa sperimentazione che mi ha fornito veramente tante istruzioni per azzardare obiettivi così prestigiosi. In fin di conti, se ci pensiamo, Maslow, uno dei più grandi psicologi, sosteneva sempre che, in base alla teoria dei desideri, un desiderio affiora dal subconscio in base alla soddisfazione o all'insoddisfazione di altri desideri che sono stati precursori nel darti informazioni vincente per produrre un desiderio ancora più ambizioso. Quindi è un percorso che ha portato al mio subconscio a poter progettare, ideare e vedremo se realizzare un obiettivo così prestigioso. Se vogliamo, adesso lo posso anche un po' svelare. Quando parlo dei miei progetti, probabilmente sono a sei mesi, otto mesi dalla realizzazione finale del progetto, ma il progetto viene da molto lontano. Già l'anno scorso, sul grande progetto Stelvio Unlimited, ho dovuto mediare con il mio team una condotta, se vogliamo, strategica, forse folle. Stavo già pensando a questo evento e l'idea era di partire forte i primi dieci giorni per vedere la reazione mia psicofisica, ma poi con la consapevolezza di averne altri eventi davanti da fare. Quindi è stato un misto tra sperimentazione e acquisizione anche di consapevolezza e informazioni importanti per questo evento. Allora, in questi 13 giorni dovete fare questi conteggi qua. Allora, ogni Everesting in quella salita si compone, si raggiunge con 11 scalate. Per cui, se parliamo del record, stiamo parlando di 66 scalate, 110 per il super record, cioè 66 per farne 6, 110 per fare il super record, quello che c'eravamo prefissi. 10 km ogni risalita, ogni Everesting sono 220 km, totale 2200 km. Il dislivello, l'abbiamo già detto, le ore seduti sulla bici non ho idea, non le ho calcolate, forse è meglio che non le calcoliamo. Insomma, dentro un'impresa, questa è una vera impresa, perché le vere imprese sono quelle che dentro contengono anche il rischio di non farcela. Maurizio, ce la fa o non ce la fa? Io penso che se non capita nulla, che tutto vada bene, perché poi sai, è vero che diciamo ci sono tante salite, ci sono tante discese, tante ore, però c'è anche tutta una questione poi dietro di alimentarti per 12-13 giorni in bicicletta, quindi devi sperare che il tuo fisico sia in equilibrio, come dice sempre Zico, da un punto di vista psichico, da un punto di vista mentale, fisico, quindi non possiamo, in queste situazioni non possiamo permetterci che succeda niente. E sai, delle volte basta poco, magari un gel in più, una bevanda troppo fresca, vediamo che succede a un giro d'Italia, che sono professionisti, che delle volte abbandonano un giro perché hanno sbagliato qualcosa, per dire succede un qualcosa a livello intestinale che poi ti debilita e ti porta via tutte le forze. Quindi io, conoscendo Zico, sinceramente ci scommetterei che ce la fa. Noi siamo con lui, siamo stati con lui già negli altri eventi e saremo con lui a sostenerlo sia da un punto di vista come centro per questi tredici giorni che lui pedalerà, ma saremo anche con lui in bicicletta in diversi giorni perché penso che anche da un punto di vista mentale avere compagnia per questi giorni possa essere un supporto che gli possa far piacere. Ecco Alessandro, ci sono un po' di eventi collaterali, no? Oltre a questa impresa. Sì, io vorrei focalizzare una cosa, perché qui magari si perde un po' il lume, perché qui si parla a tutti, no? Giustamente il filosofo, giustamente se no ce la farà. Allora, per noi umili ciclisti, quelli veramente che vanno una volta o due la settimana come me, io lo raccontavo a Giacomo qualche settimana fa, erano su una salita impegnativissima, che è quella di tavoletto, quindi facciamoci che salita era, ed ero sfinito, non riuscivo ad arrivare in cima. Allora ho cominciato a pensare, ma Zico cosa farebbe, cosa non farebbe, mi dicevo sempre, no? La questione mentale, eccetera. Ma quando uno non gliela fa più, ragazzi, non gliela fa più, stavo per scagliare la bicicletta sulla setta di tavoletto, quindi pensare che Zico riesca a farmi, non è solo una questione mentale, perché è vero, è importantissima, ma anche la questione fisica, cioè alla salita c'è anche la discesa, uno, hai detto precisamente te, la discesa forse a volte è più difficile della salita, perché il freddo, la stanchezza, cioè tutte cose che veramente, queste hanno dell'incredibile, noi che siamo ovviamente ciclisti di bassissimo livello, ci rendiamo forse ancora più conto di quanto è importante tutti questi fattori che diceva anche Maurizio, anche alimentazione o prendere al momento giusto, perché se lo prendi il GES, se lo prendi l'attimo dopo, si viste anche il Giro d'Italia, non fa più niente, quindi veramente è un'organizzazione incredibile di tutto questo evento. Poi, ritornando alle cose più facili, quelle di organizzare altri eventi, si è voluto anche proprio con l'input del sindaco, del presidente, cercare appunto di coinvolgere, fare una sorta di festa per accompagnare Zico in questa sua ultima, la chiamo impresa, perché si definisce così, insomma, creando appunto eventi collaterali. Noi partiremo addirittura da due settimane prima, perché poi ci sarà anche il gemellaggio dell'Avis di Bormio, col quale si è stabilito proprio dopo l'ultima cavalcata di 101 scalate sullo Stilvio, si è creato proprio il link con la città di Cagli, con l'Avis di Cagli e l'Avis di Bormio, qui ci saranno questo gemellaggio che aprirà in qualche modo questi festeggiamenti, che li chiamo festeggiamenti. Poi ogni fine settimana ci saranno delle manifestazioni che stiamo perfezionando e che entro questo fine settimana avremo la possibilità di conoscere. Tutte le società del posto, le società sportive, le società culturali, daranno il proprio apporto a Zico, organizzando all'interno di queste due settimane dei piccoli eventi, che possono essere la passeggiata a cavallo, il trekking, qualsiasi, nell'ambito del mini volley, gli scacchi per dire a chi dice non c'entrano niente forse con lo sport, ma anche quello è uno sport, quindi cercare a tutto tondo di dare un sostegno così sportivo all'impresa di Giacomo. Stiamo lavorando, quindi vediamo già appuntamento. Poi soprattutto l'ultima domenica, il 10, quando si presume, si spera che Zico abbia ultimato, stia per ultimare la sua impresa, ci sarà la strada completamente chiusa al Monte Petrano e questo per noi ciclisti o pedalatori o comunque che vuol venire anche a piedi, a cavallo, ripeto, lo può fare tranquillamente perché dalle otto e mezza all'una, a mezzogiorno e mezza all'una, sarà completamente chiusa. Quindi anche questa sarà una sorta di pellegrinaggio sul monte dove c'è, speriamo, questa ultra impresa o quantomeno, io sono sicuro, le 6, è già fatta, insomma, apriamo anche le scommesse, per le 10 ci stiamo lavorando, adesso poi anche col sindaco andiamo su aiutarlo, prendiamo, facciamo le 10, ma guarda che dura anche la decisione, quindi per le 6 diamo appuntamento sicuro, per le 10 ci stiamo lavorando e quindi comunque il tutto, ripeto, ci saranno tanti, ci sarà la musica la sera, ci sarà, dovrebbe essere uno schermo che sarà posizionato sul campo base, l'altro sulla piazza dove traccerà proprio fisicamente, vedremo il puntino di Zico che salirà e scenderà, quindi qualsiasi cittadino, qualsiasi curioso potrà vedere e quindi potrà andare manforte, quindi tutte queste cose le stiamo, ripeto, studiando, ma sarà veramente una festa del territorio per accompagnare Zico. Sindaco, non si può neanche spianare la salita perché non vale più il record dopo, visto che è fatto così, per cui bisogna stare solo a guardare, però predisporre tutto affinché tutto funzioni alla perfezione, immagino che la macchina organizzativa della comunità montana, del comune, di tutto un po' l'organizzazione, oltre all'organizzazione di Alessandro Galazzi si sia mossa e si stia muovendo per creare le condizioni perfette, la qualità statica deve essere perfetta. Certo, benché il Montepetano sia un bellissimo pianoro, poi in cima è veramente spianato ed è bellissimo, è una montagna, tra virgolette, particolare, caratteristica. Noi abbiamo puntato tutto sul discorso della partecipazione del territorio a questo evento, perché come dicevo all'inizio, è la parte mentale, la parte che ci deve unire, quindi tutte le società, tutti coloro che sono in qualche modo vicini a qualche attività, partecipano, non hanno partecipato e saranno felici di accompagnare Zico in questa sua avventura. È chiaro che in tutto questo c'è anche un po' una mezza scusa per far conoscere le bellezze che ci sono nei nostri territori. questa, diciamo, questo record, questa impresa, chiamiamola così, avviene in una montagna precisa che è il Montepetrano, che c'è una collocazione tra Cagli e Cantiano, quindi in un territorio ben limitato. Però, come è la nostra strategia, come è la nostra idea di Alte Marche, non deve essere un motivo di divisione, anzi un motivo di partenza per unire un territorio ancora più vasto di quello che è la nostra strategia, le nostre Alte Marche, come dicevi tu, comprendono già nove comuni, ma è un piccolo esempio poi da rafforzare con tante altre realtà intorno alla nostra e insieme creare veramente una regione, un territorio che non abbia nulla da invidiare agli altri. E quindi, ecco, l'idea è questa, partire dalle peculiarità che ogni piccolo comune ha. Perché Cagli io lo ritengo, si arrabbiano i miei concittadini, ma è un piccolo comune rispetto alle metropole, rispetto alle grosse città. Quindi dobbiamo essere fieri delle nostre peculiarità, delle nostre eccellenze che abbiamo e dico sempre, dobbiamo soltanto cambiare la mentalità, mentre prima venivano usate per noi stessi e per la soddisfazione di pochi, dobbiamo avere il coraggio, dobbiamo avere la lungimiranza invece di metterle in rete, metterle a disposizione di tutti, con l'orgoglio chiaramente tipico del rione, tipico del borgo, ma renderle fruibili a tutti. Se riusciremo a fare questo saltino di qualità e di mentalità tutto sarà più facile e credo che i nostri territori abbiano veramente la potenzialità per diventare attrattivi senza temere alcuna concorrenza. Io me lo immagino, l'australiano felice in questo momento, quello che ha fatto i 5 record, che il 10, l'11 luglio, guarda, diciamo, ma dove è questo posto? Accidenti è questo posto? Che vetrano! E diventa famosissimo ovviamente in tutta l'Australia. Abbiamo una manciata di minuti, anzi a dire il vero, avremo anche un po' sforato, ma ce li prendiamo. Volevo farti una domanda, dico, sul discorso della gente che viene, che ti accompagna, no? È una situazione che mi ha sempre incuriosito. È più quello che aggiunge alla carica dell'atleta o è più quello che toglie in quanto a distrazione? Ah, insomma, è difficile generalizzare. In quei momenti, devo essere estremamente sincero, poche le volte che le persone possono capire realmente le tue esigenze. Però è anche uno dei miei grandi obiettivi, quello di condividere. Quindi, come è stato nei miei precedenti record, come è stato sullo Stelvio, è più quello che mi lascia in positivo essere accompagnato dalle tante persone e coinvolgere tante persone, che è assolutamente quello che mi toglie come atleta. Quindi sono assolutamente contento che più gente viene e meglio è, assolutamente. L'evento sullo Stelvio è stato talmente potente a livello emozionale, ha coinvolto tantissime persone locali che sono venute, ma anche i locali, che ha creato delle basi, delle relazioni molto importanti e anche in questo caso verranno giù una delegazione da Borbio per sostenermi, per festeggiare comunque la partenza dell'evento. Quindi queste sono le cose molto importanti che, diciamo, alimentano molto la mia motivazione. Anche in questo caso ti avrai il tuo team collaudatissimo, con la tua moglie in testa e tutti quelli che appunto si sono rodati bene anche nell'iniziativa dello Stelvio. Già da giorni stiamo provando a calendarizzare i turni come dei veri e propri turni in fabbrica perché è veramente difficile per loro. È un'impresa sia fisica che mentale anche per loro, perché stare dietro a un, lasciatemi passare il termine, un morto che pedala per dieci giorni è veramente dura. Anche loro combatteranno con il sonno, combatteranno anche con le mie emozioni perché ci sono dei momenti dove quella parte antica della nostra mente tende a preservarci, si diventa anche un po' scontrosi, fa parte del gioco, chi ti conosce lo sa, però devono in qualche modo loro assorbirlo e cercare di assecondarmi un po' in tutti i miei capricci, quindi fanno un lavoro gigantesco, senza di loro sarebbe veramente impensabile. È bello questo fatto che sei praticamente a casa, mi dicevi che hai la possibilità comunque di riposarti anche in cima, dipende dalle condizioni climatiche, per cui è tutto creato in modo che tu non debba preoccuparti in nessun modo di quello che può essere l'esigenza del momento. In ogni momento tu hai un'esigenza particolare, quella esigenza viene assecondata dall'organizzazione. Del resto essere vicini a casa, qualche vantaggio insomma dovrà pur averlo. Se è vero che hai impresa raggiunta, su quella salita si conterà il numero mille? Sì, con questo evento tra allenamenti e evento stesso credo di superare le mille scalate in bicicletta del Monte Petrano nella mia vita, quindi numero particolare che mi lega a questa montagna, ma al di là dei numeri vado un paio di volte al giorno minimo da tutta la mia vita sul Petrano o a studiare o a leggere o a passeggiare o a allenarmi. A prendere la grandine, a prendere la grandine, l'acqua, la neve, ci sono stato anche giorni e giorni consecutivi a dormire sia d'estate che d'inverno, quindi è veramente una connessione forte con l'ambiente, con la natura che è sempre anche questo uno dei punti fondamentali che alimenta la mia motivazione e la mia capacità di rimanere concentrato con gli obiettivi. La natura ci porta veramente nella giusta direzione. Intanto mentre lui pedala, tra l'altro ricordavo che i ristoranti stanno preparando anche proprio dei piatti particolari con nome che danno il nome di Zico, il nome limite che stanno studiando, quindi mentre lui pedala qua giù io e il sindaco intanto facciamo il giro, valutiamo un pochettino tutti i vari libretti che propongo, perché questo deve essere anche, mentre lui fa fatica, una vera festa di promozione, quindi speriamo, anzi invitiamo anche, visto che siamo qui a Pesaro, che tutti, non soltanto i nostri territori, ma di venirsi a trovare, perché quelle giornate lì ci sarà da divertirsi, a seguire Zico, ma anche a stare a Caglia, ai nostri territori, a godersi appunto tutto il territorio. Bene, se mi concedi Paolo, scusa, una considerazione, rialacciandomi al discorso dell'alimentazione che ha accennato anche Maurizio, alla necessità di integrarsi, di alimentare, di raggiungere una normocaloricità in un evento straordinario, molti non fanno una considerazione di questo tipo, cioè io consumerò oltre le 10.000 calorie al giorno, per 10 giorni, quindi la sfida non è che diventa mangiare, cioè non siamo stati creati per mangiare 10.000 calorie al giorno, cioè non ce la fanno neanche i nostri organi a elaborare 10.000 calorie tutti i giorni, quindi è veramente una sfida alla ricerca delle nostre qualità primordiali, cioè l'utilizzo del grasso. Eravamo maestri in questo e dobbiamo diventarlo di nuovo maestri se vogliamo raggiungere risultati impensabili nel campo dell'Ultra Endurance. Allora, facciamo un giro di battute finali, però voglio far iniziare Maurizio con una cosa che invece va oltre questa impresa, perché il 3 luglio c'è anche qualcosa di interessante, perché ricordiamo che Maurizio Radi, ovviamente oltre che promotore di queste iniziative e di tante altre che i nostri telespettatori hanno imparato a conoscere, appunto non si ferma, non si ferma mai, come diceva prima Zico, le idee arrivano da lontano, anche quelle di Maurizio arrivano chissà in quali momenti e c'è questa iniziativa del 3 luglio. Sì, diciamo che per noi da metà giugno fino a fine luglio è un periodo molto intenso e ci fa piacere, siamo contenti di questo, è normale che tanti impegni creano tante motivazioni per poterli raggiungere. Siamo ormai vicini allo sport in diversi settori e oggi come oggi siamo vicini allo sport non solo per quello che vediamo con Zico, le imprese, l'endurance, quello che può essere magari il ciclismo amatoriale, ma siamo anche vicini ai giovani. Ormai sono diversi anni che sosteniamo due realtà qui vicino a noi, una cattolica al Velo Club e l'altra l'Alma Juventus e Fano, le due società storiche che sono rimaste da più di 40 anni che ancora portano avanti il ciclismo giovanile e con l'Alma Juventus Fano il 3 di luglio organizzeremo la Rossini Raffaello, la Peso Urbino, chiamiamola come la vogliamo chiamare, una gara in linea per allievi e anche questa è un'altra sfida perché in Italia di gare in linea per allievi ce ne sono veramente poche, siamo riusciti a coinvolgere le istituzioni che ci hanno dato una grande mano e vorremmo portare questo evento a vertici nazionali e poi naturalmente anche questa è stata ideata sempre per cercare di promuovere il territorio, quindi legare due città con la loro cultura, la loro storia, due personaggi come Rossini e Raffaello e poi in fondo mettere insieme un gruppo di amici e anche qua dietro c'è un collegamento tra amicizie di vecchia data del ciclismo, da Peso Urbino con amici e ex colleghi di bicicletta da giovani che ancora sono colleghi di bicicletta da chiamiamoli da grandi. Tutto questo naturalmente ci rende partecipe in questo mondo da diverso tempo e io spero che chi ci ascolta ci venga a sostenere sia sul Petrano sia in Piazza Pesaro all'arrivo di Urbino e speriamo che questi eventi possano portare sempre più persone nel nostro territorio dove noi sappiamo che è un territorio che può dare tanto alla bicicletta. E per concludere voglio dire che poi purtroppo questa manifestazione che era nata solo col nome della Rossini e Raffaello con quello che purtroppo è successo strada facendo è stata intitolata come primo memorial Marco Ragnetti di questo ragazzo di 16 anni che ha perso la vita con l'incidente stradale a marzo di quest'anno. Bene, un pensiero a lui, domanda piacere per fare l'ultimo giro ma siamo proprio, la domanda piacere è quella da pochi secondi, Sindaco. Io invece voglio concludere ringraziando Giacomo Zico per quello che sta facendo per il nostro territorio ma lo voglio allargare oltre a Zico anche un attore in un determinato settore a tanti altri ragazzi, a un gruppo di dirigenti delle società sportive che ci sono oggi a Cagli che stanno facendo uno sforzo immane di ragionare insieme, hanno veramente cambiato la cultura di intendere lo sport, di intendere un po' anche di capire l'importanza dell'aggregazione quindi diciamo che al di là del, se si verificherà o meno, il record che già Giacomo abbia influito in quello sforzo mentale che dicevamo e quindi voglio ringraziare oltre che Zico voglio ringraziare Luca, voglio ringraziare Francesco, voglio ringraziare Fabio, Massimo, Cristiano, Riccardo, Andrea che sono dei giovani ragazzi che si stanno occupando le società sportive e stanno ragionando insieme e soprattutto stanno stimolando in maniera giusta e equilibrata senza strumentalizzare, stanno così aiutando anche l'amministrazione a crescere e ad adeguarsi a quelle che sono le esigenze di un territorio appunto che comincia a ragionare insieme e quindi li ringrazio tantissimo e speriamo di poter essere all'altezza per nell'arco di un anno o due di recuperare magari errori del presente, del passato o anche situazioni gravi, incomprensibili come poi sia stato il Covid o la guerra che c'è adesso che hanno sicuramente condizionato in negativo alcune attività. Quindi grazie veramente a questa nuova classe dirigente dello sport a Cagli. E allora la battuta la giriamo anche ad Alessandro Valazzi per proprio un saluto e una battuta finale. Un saluto, veramente sono felice, non voglio fare quello che valo da, però con quello che siete qui adesso, quello che ho, ancora prima di fare questo lavoro che faccio come promozione del territorio reggiventi, portava avanti con la mia passione perché quando si andava a parlare e si andava a proporre da alcune amministrazioni, da alcune cose e ci vedevano ancora con altre cose, Maurizio, col ciclismo, ma dico dalla Staducano o quasi altra cosa, sembrava che fossero cose avulse dalla realtà fuori dal territorio. E finalmente qui, anche con questa, vi ringrazio per aver organizzato questa serata perché sicuramente si vede come lo sport, outdoor, ma soprattutto anche il ciclismo, serva al territorio per promuovere, serva a incrementare nuove attività commerciali e quindi è importante quello che io da anni e anni e anni stavo cercando di passare come concetto, adesso sta passando e grazie anche a tanti imprenditori come Maurizio che è vero che lui è un ciclista ma ci sta credendo fortemente su quello che sto facendo grazie a Zico e grazie alle amministrazioni che ci stanno credendo perché non è così scontato che le amministrazioni credano nello sport e credono in questa tipologia di turismo sportivo. Quindi grazie, sono contento e speriamo di, anzi ci rivedremo sicuramente con le vostre telecamere su Acagli e poi festeggeremo, non so, ci diamo già una data per festeggiare e vogliamo darcela, ci rivediamo, rimaniamo vaghi. Scaramanticamente non diciamo niente per adesso. Zico a proposito di questo, per il tuo ultimo saluto ti lancio un input, la senti un po' la responsabilità anche sulle spalle di tutto questo movimento intorno, diceva prima Alessandro, non andare sotto la grandina, insomma ti rendi conto comunque che devi essere in perfetta efficienza e tutta questa macchina si muove attorno a te oppure riesci a non pensarci e a tenere fisso il pensiero sull'obiettivo? Non vorrei passare per presuntuoso ma voglio anche essere sincero, sono orgoglioso di muovere tutta questa grande macchina perché sicuramente poi quando saremo lì all'evento ci sarà come normale che ci sia un po' di tensione e questo fa parte del gioco, però il mio grande obiettivo è quello di coinvolgere, quindi aver iniziato un processo che passa attraverso quasi una sperimentazione, restare soli, da soli in una salita e aver pian piano dato via a un processo che vede l'impresa solitaria come involgere invece una comunità, imprese, associazioni era proprio il mio obiettivo e quindi continuerò a alimentarlo con forza e va benissimo la pressione su di me se porta a questo risultato e poi comunque va, quello che dico ai miei atleti o vinci o migliori o ancora di più, visto che il buon Alessandro Golazzi mi ha nominato come filosofo dello sport, io sostengo o vinci o migliori o decidi te cosa vuol dire vincere, quindi saremo qui, se ci inviterete vi ringrazio già da ora, a raccontare sicuramente una storia, una grande storia che ha coinvolto centinaia di persone in diverse comunità, comunque vada perché fallimento? Cos'è il fallimento? Non lo so, me lo dovete spiegare cos'è il fallimento, io non sono più la persona di prima, fin da oggi tutto quello che c'è stato in questo percorso mi ha migliorato e quello che sarà da qui all'evento e durante l'evento mi migliorerà ulteriormente, quindi veramente non vedo fallimento ma vedo solo grandi risultati. Bene, a questo punto siamo veramente fuori tutti i tempi ma avevamo tante cose da dirvi, tante cose da raccontarvi, l'abbiamo fatto con quattro protagonisti d'eccellenza, con Zico Pieri, con Maurizio Radi, con Alessandro Gualazzi e Alberto Alessandri, io in chiusura solo proprio veramente voglio ringraziare Maurizio Radi per coinvolgere Rossini TV in queste iniziative perché dobbiamo dire la verità, è grazie a lui che Rossini TV è stata coinvolta in tutta questa serie di iniziative attraverso le quali stiamo conoscendo e facendo conoscere ai nostri telespettatori un mondo. Maurizio grazie, grazie a tutti quanti e naturalmente continueremo a tenervi aggiornati e faremo anche degli speciali sul posto per raccontarvi passo passo l'iniziativa di cui abbiamo parlato oggi. Grazie ancora, continuate a restare sempre con il canale 80 di Rossini TV. Buona giornata a tutti.